Emozioni, noi stasera siamo qua a risvegliare le farfalle nello stomaco, quella sensazione che si sente qualche volta in realtà e qualche volta si perde, bene noi siamo qua per questo, dobbiamo risvegliare le farfalle, e vai, benissimo benissimo, bene 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 bene, come faremo a risvegliare le farfalle? Ragazzi noi abbiamo un metodo infallibile, voi non dovete flertare solamente con la persona che avete davanti, dovete guardarvi attorno, quando vedete una persona che vi piace, prendete carta e penna, scrivete un messaggino con quello che vi esce dal cuore, vi firmate con il vostro numero identificativo, fuori scrivete a chi lo dobbiamo portare Grazie Grazie Grazie